aveva 26 anni rene ceravolo e solo due mesi fa si era sposata con giuseppe lavorava come operatrice socio sanitaria viveva con il marito a bulgaro grasso in provincia di como proprio nella sua abitazione una notte si è sentita improvvisamente male giuseppe ha subito allertato i soccorsi poi la corsa disperata in ospedale per cercare di salvarle la vita anche quando il cuore ha smesso di batteri i medici hanno fatto tutto il possibile per cercare di rianimarla purtroppo tutto si è rivelato inutile sul corpo della giovane verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per cercare di capire il motivo dell'improvvisa morte come riporta la provincia di como la donna era giovane non aveva mai avuto gravi problemi di salute ora la famiglia vive un secondo grave lutto solo due anni fa anche il padre della ragazza era morto prematuramente per una malattia ora erene morta a soli 26 anni a solo due mesi dal suo matrimonio